Il cenone, il cenone. Ah no, basta, non lo farò più. Quel ciccione di Enri Templia era davvero infuriato come se gli avessi fatto una proposta infamante. Gli altri chiesero ridendo, perché ti arrabbi tanto? Lui rispose, perché il cenone mi ha fatto il più schifoso scherzo di questo mondo e mi ha lasciato un'invisibile ripugnanza per questa stupida nottata di allegria idiota. Come mai? Lo volete proprio sapere? Bene, statemi a sentire. Vi ricordate che freddo faceva due anni fa? A quest'epoca. Un freddo da accoppare i poveri per la strada. La senna era gelata. I marciapiedi ghiacciavano ai piedi attraverso le suole delle scarpe. Pareva che il mondo fosse sul punto di scoppiare. Avevo iniziato un lavoro importante. Difrutai qualsiasi invito per il cenone, preferendo passare la notte alla scrivania. Cenai da solo, poi mi misi al lavoro. Ma ecco che verso le dieci il pensiero dell'allegria che percorreva Parigi, il rumore della strada che nonostante tutto mi arrivava, i preparativi dei miei vicini per la cena, che sentivo attraverso le pareti, cominciarono a turbarmi. Non sapevo quel che facevo, scrivevo sciocchezze. Capii che per quella notte dovevo rinunciare a concludere qualcosa di buono. Camminai per un po' avanti e indietro nella stanza. Mi sedetti, mi rialzai. Certamente ero sotto l'influsso misterioso dell'allegria di fuori e mi rassegnai. Suonai alla domestica e le dissi, Angel, andate a comprare l'occorrente per cenare in due. Ostriche, una pernice fredda, gamberi, prosciutto, dolci. Portate su anche due bottiglie di champagne, poi apparecchiate e andatevene a letto. Lei obbedì un po' sorpresa. Quando fu tutto pronto mi infilai il cappotto ed uscii. Restava da risolvere un grave problema. Con chi avrei fatto il cenone? Le mie amiche erano tutte invitate. Per averne una avrei dovuto pensarci in anticipo. Così pensai di prendere due piccioni con una fava. Dissi a me stesso, Parigi è piena di belle ragazze povere che non hanno da mangiare e girano in cerca di un giovanotto generoso. Voglio essere il Natale di una di queste disgraziate. Andrò in giro, entrerò nei locali, domanderò, fiuterò, sceglierò a mio piacere. E cominciai a battere la città. Sì, incontrai tante povere ragazze in cerca d'avventura, ma erano brutte da far venire il mal di pancia, oppure così magre che se si fossero fermate si sarebbero congelate. Sapete che ho un debole per le donne pienote. Più sono in carne, più mi piacciono. Una cicciona mi fa addirittura impazzire. Un tratto davanti al Teat de Varieté vidi una figura di mio gusto. Dopo la testa davanti due sporgenze. Quella del petto, bellissima. Quella di sotto, straordinaria. Una panzetta da oca grassa. Ebbri vidi, mormorando, perbacco, che bella figuola. Restava da chiarire un solo punto. Il viso. Il viso è il dolce. Il resto è l'arrosto. Allungai il passo. Superai la donna vagante. Sotto un fanale mi voltai di scatto. Era incantevole, giovanissima, bruna, con due occhioni neri. Feci la mia offerta e lei accettò senza esitare. Dopo un quarto d'ora eravamo già in casa mia, seduti a tavola. E si guardava intorno visibilmente soddisfatta ad essere riuscita a trovare vitto e alloggio in quella gelida notte. Era splendida. Tanto bella da stupirmi e tanto grossa da ammaliare il mio cuore per sempre. Si levò cappello e cappotto. Si sedette e cominciò a mangiare. Ma non sembrava in gran vena. Ogni tanto il suo viso un po' pallido si contraeva, come se soffrisse di una pena segreta. Le chiesi. Qualcosa che non va? Rispose. Bah, non ci pensiamo. Cominciò a bere. Vuotava di colpo la coppa di champagne. La riempiva e la vuotava di continuo. Ben presto le venne un po' di colore sulle guance e iniziò a ridere. Sentivo già di adorarla. Le davo dei gran bacioni accorgendomi che non era né stupida né mediocre né volgare come le ragazze da marciapiede. Le chiesi particolari sulla sua vita. Mi rispose, caro, non sono cose che ti riguardano. Ahimè, un'ora dopo arrivò il momento di andare a letto e mentre io levavo il tavolino apparecchiato davanti al fuoco, lei si spogliò in fretta e scivolò sotto le coperte. I vicini facevano un cazzo tremendo, ridendo e cantando come matti. E io pensavo, ho fatto proprio bene ad andare a cercare questa bella ragazza. Non sarai mai riuscito a lavorare. Un gemito profondo mi costrinse a voltarmi. Chiesi, che c'è, piccola? Lei non rispose, ma seguitò a sospirare dolorosamente, come se soffrisse moltissimo. Ti senti male? Soggiunsi. Improvvisamente gettò un grido, un grido straziante. Mi precipitai col candeliere in mano. Aveva il viso sformato dal dolore e si torceva le mani, ansando, facendo uscire dal fondo della gola quei sordi gemiti che sembrano rantoli e stringono il cuore. Smarrito le domandai, che cos'hai? Dimmi, che cos'hai? Non rispose e si mise a urlare. I vicini tacquero tutti insieme in ascolto di ciò che accadeva in casa mia. Io ripetevo, dove ti fa male? Dimmelo, dove ti fa male? Lei balbettò. La pancia, la pancia. Sollevai di colpo le coperte e vidi? Stava partorendo, amici miei. Allora persi la testa e mi scagliai contro la parete tempestandola di pugni a tutta forza e gridando, aiuto, aiuto. Si spalancò la porta e una folla di persone si rovesciò dentro. Uomini in abito da sera, donne scollate, pulcinella, turchi, moschettieri. Quell'invasione mi sgomentò tanto che non riuscivo neanche più a spiegare quel che stava accadendo. E neppure loro capivano. Avevano pensato a un incidente, forse a un delitto. Alla fine riuscì a dire, c'è, c'è quella donna che sta per partorire. Ciascuno lo esaminò e disse la sua opinione. In particolare uno mascherato da frate, pretendeva di intendersene e di voler aiutare la natura. Erano ubriachi fradici. Mi parve che stessero per ammazzarla e allora senza cappello mi precipitai per le scale a chiamare un vecchio medico che abitava in una strada vicina. Quando tornai con lui tutto il fabbricato era in subbuglio. Avevano acceso il gas per le scale e gli abitanti di tutti i piani si erano insediati nel mio appartamento e quattro maschere si erano messe a tavola per finire i gambiri e lo champagne. Appena mi videro scoppiò un urlo spaventoso e una specie di balia mi presentò in un tovagliolo un orrendo pezzettino di carne rugosa, raggrinzita, gemente e miagolante come un gatto. Mi disse è femmina. Il medico visitò la puerpera. La trovò in condizioni preoccupanti, visto che la cosa era accaduta subito dopo cena e se ne andò annunciando che mi avrebbe subito mandato un'infermiera e una balia. Le due donne arrivarono dopo un'ora portando un pacco di medicina. Passai la notte in una poltrona, troppo fuori per me per poter pensare alle conseguenze. La mattina tornò il medico e trovò che la malata stava piuttosto male. Mi disse vostra moglie? Non interruppi, non è mia moglie. La vostra amante non me ne importa, continuò lui, ed elencò le cure di cui aveva bisogno, la dieta, le medicine. Che fare? Mandare quella disgraziata in ospedale? Tutta la casa, tutto il quartiere mi avrebbero considerato un farabutto. La tenne in casa, restò per sei settimane nel mio letto. La bambina? L'ho mandata da certi contadini di Poissy. Seguite a costarmi 50 franchi al mese. Dato che ho pagato dal principio, sarò costretto a pagare finché campo. E dopo crederà che io sia suo padre. Per colmo disventura. Quando la ragazza è guarita, sarà innamorata di me. Innamorata alla follia, quella stracciona. E allora? Allora era diventata piallata come un uscio. E così ho sbattuto fuori quella carcassa che ora mi spia per la strada. Si nasconde per vedermi passare. Mi fermo la sera quando esco per baciarmi la mano. Insomma, mi fa diventar matto. Ed ecco perché non farò mai più un cenone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.